Immaginate che questa sia una carica 1 dotata di massa 1, questa sia una carica 2 dotata di massa 2, cioè una particella 1 e una particella 2 dotata di cariche. Stanno interagendo, infanto hanno carica, interagiscono con una forza di Coulomb, facciamo fisica non relativistica qua, quindi si muoveranno velocità basse, velocità luce e quindi possiamo parlare della forza di Coulomb, il campo elettrico di Coulomb. Io vi chiedo di scrivere, di pensare questo come un sistema, interagiscono sia Coulombianamente che gravitazionalmente e io vi chiedo di scrivere l'energia meccanica del sistema. Allora, come si fa a importare, potrei scriverlo subito così, diciamo, questa è l'energia cinetica, l'energia, questa qua, la scriviamo ma a meno riserva la parintesi, per il momento. Ma dov'è questo numero? Allora, Epsilon zero? Non ricordo se abbiamo fatto questo discorso, ma l'importante è che voi siate in grado di ricordare i numeri, avere anche un'idea di cosa sono. Allora, non ho ancora detto che cos'è il parat, però imparate questo numero. Allora, il sistema interagionale è 885 per 10 alla meno 12, parat su metro, oppure 885 per picco parat su metro, perché il picco parat è il 10 alla meno 12. Quindi il K elettrico, che è questa combinazione di 1 su 4 pi greco da 0, quanto varrà? Allora, vorrei che voi lo sapeste all'orale, e anche negli iscritti servirà, adesso è in grado di calcolarlo. Quindi, o voi imparate questo numero, o imparate questo, e poi calcolate questo numero che diceva. Quanto è? La costante è gravitazionale, quindi A scrivo, se questo è Q1 e Q2, scriverò così, Q1 e Q2 diviso, indico con R, la distanza tra le due cariche. Questa è l'energia potenziale colombiano, anzi lo scrivo qua, ma continuiamo, se sento la parentina, quindi mettiamo Q1, c'è una costante 1, quella graficazionale, è evidente che C1 e C2, le due costanti, possono essere messe insieme per avere un'unica costante. Quindi vediamo qua. Questa è l'energia meccanica, se per caso questo fosse un protone, questo fosse l'elettrone, quindi avete la massa del protone che è circa 2000 volte la massa dell'elettrone, avete la carica dell'elettrone, del protone, che è uguale a E, che è 1,6 per 10 alla meno 19 Coulomb, e questo è uguale a meno la carica dell'elettrone, quindi se volete questo è circa 2, questo è in realtà, il numero che mi viene in mente, non ho una ottima memoria, ma è 1,436, questo è circa 2.000, dovrebbe essere questo numero, guardatelo, sono dimenticato di guardarli, vorrei che io uso questi numeri la mattina e la sera, dovrei prima di venire alla lezione guardare i numeri, ma poi mi dimentico tra email e altre cose. Controllate quel numero, è circa 2.000, questo sì. Quindi qual'è la relativa importanza di questi due pezzi? A rigore, se io ho un elettrone e un protone, dovrei, sarebbe così, no? Avrei questo, il segno meno, giusto? In questo caso qua. Questa sarebbe l'energia meccanica di un elettrone che interagisce con me. E' molto carino questo perchè sia la forza di Coulomb, sia, sempre certo che siamo in fisica relativistica, la velocità è piccola e quindi il campo elettrico è rigorosamente radiale centrale, il campo di Coulomb è conservativo, la forza di Coulomb è conservativa, come anche la forza gravitazionale, quindi questa grandezza qua rimane costante nel tempo. In particolare, siccome la forza sia di Coulomb che quella di gravitazione, siccome sono entrambe forze che vanno 1 sulla distanza al quadrato, c'è un teorema che Newton ha dimostrato, che se voi foste fisici e avessimo tanto tempo a disposizione come si faceva tanto tanto tempo fa. Vi dimostrerei il teorema di Newton che asserisce qui, quando avete una forza di questo tipo, 1 su R quadro, allora la traiettoria sarà, se una delle due è molto massiccia rispetto all'altra, possiamo partire dall'ipotesi così simplificatoria, che quello più massiccio più o meno accelera poco, quindi se io scelgo di mettere l'orizio negli assi qua, il sistema sarà quasi iniziale, si accelera poco, perché ha molto massa rispetto a questo, quindi è come il Sole, è un asteroide o un pianeta, d'accordo? Allora Newton ha dimostrato che se l'asteroide o l'elettrone è soggetto ad una forza 1 su R quadro, la traiettoria che servirà è una sezione cronica, in particolare per esempio ho un cerchio o un'elisse, e quindi è molto carino, perché questa è la classica domanda che io ho fatto anche altre volte, ne ho parlato brevemente, di come si usa il concetto di energia in questo classico esercizio, già avete questa ben detta orbita ellittica, provo a disegnare un'elisse, e questo magari è la posizione A, e questa è la posizione B dell'elettrone, cioè a un certo momento lui si trova qua, qua avrà una velocità, che ovviamente la velocità è sempre tangente da traiettoria, qua avrà una velocità maggiore, per una delle leggi di Caplero no, questa è la velocità A, però io non vi chiedo, vi dico, supponente che voi conoscete la posizione dell'elettrone nel punto A, qua sto variando tutti i pedici, vedete che sono un po' distratto stamattina, quindi questo è il punto A, e questo è il punto B, quindi metto i pedici corretti, questa è la posizione, se metto l'origine qua, questa è la velocità, supponente di conoscere la posizione nell'istante A, di conoscere la velocità nell'istante A, e qualcuno vi chiede quale sarà lo speed nella posizione B, oppure vi potrà chiedere una domanda molto più brutale, qual è la variazione di energia cinetica tra il punto A e il punto B, quindi fa KB meno KA uguale a UA meno UB, e uno parte così, dove ovviamente la U che appare in questo discorso è la somma di questo U e di questo U, d'accordo? Molto semplice, in linea di principio l'elettrone e il protone avendo massa stanno interagendo gravitazionalmente, però vorrei che voi vi convinceste, che è un po' ridicolo descrivere il comportamento dell'elettrone che interagisce con il protone, includendo gli effetti gravitazionali, a rigore non lo dovrebbe fare, perchè stanno interagendo con due tipi di forze, attrattiva colombiano e attrattiva gravitazionale, quindi l'energia meccanica è questa, perchè è ridicolo includere questo, quindi vorrei che voi vi convinceste, vi diamo qualche numero, allora questo è un elettrone, questo è un protone in un atomo di idrogeno non eccitato, quindi facciamo un discorso un po' semi classico, non voto certamente la meccanica quantistica, siamo in un corso di fisica 1, quindi pensate al modellino dell'atomo di idrogeno dell'elettrone che gira attorno al protone come un sistema solare, d'accordo? allora in un atomo non eccitato, il raggio, e la distanza dell'elettrone dal protone, cioè il raggio dell'atomo, il raggio di questo piccolo sistema planetario, il raggio è circa mezzo Einstein, ordine di grandezza, cos'è un Einstein? qualcuno se lo ricorda? un Einstein è l'unità di misura con cui le persone misurano il diametro degli atomi, perchè sono molto piccoli, quindi insistere a usare dimensioni o unità di misura antropomorfe, il metro, è un po' ridicolo perchè uno ha dei numeri molto piccoli, il Langstrom è uguale a 10 alla meno 10 metri, d'accordo? molto piccolo, insistere a misurare i raggi di petto di metri è un po' ma che si può fare, però uno si porta dentro un sacco di esponenti, quindi hanno avuto la possibilità anche più congeniale per chi misura i chimici per esempio. il primo dato, il secondo dato, la massa dell'elettrone, la massa del protone, allora la massa dell'elettrone dovrebbe essere qualcosa come circa 10 alla meno 30 kg, è qualcosa tipo 9 per 10 alla meno 29, meno 31, scusatemi, quindi è circa 10 alla meno 30 kg, è un numero molto piccolo. La massa del protone, facciamo la bella approssimazione che sia 2.000 volte questo, quindi 2.000 è 2 per 10 alla 3, per 10 alla meno 30, e vedete che questa massa del protone è circa 2 per 10 alla meno 27 kg, ok? sono numeri approssimativi, quindi voglio che voi calcoliate la forza di Coulomb, ovviamente la carica, l'abbiamo già scritto, e il rigore 1,6 approssimato pure a 2 per 10 alla meno 19 Coulomb, fate l'approssimazione, a me interessa la rodiga, non numeri con precisione, con tante numeri dopo la virgola, fate il calcolo della forza di Coulomb, fate il calcolo della forza di gravitazione, e fate il rapporto, voglio vedere chi è dei due, che è più intenso dell'altro, ovviamente intuite già la risposta, quella gravitazionale è più intensa, ma io voglio sapere quanto, quanto, 10 volte, 1000 volte, milioni di volte, quante volte più intenso è, a parità di distanza, quindi qua avete il protone e l'elettrone che interagiscono con due forze, la gravitazionale e la Coulomb. Intuiamo che quella elettrica è più, no? perché basta che io abbia un palloncino, lo strofino, e riesco ad appiccicarlo al muro, e resiste tranquillamente alla forza di gravità, alla forza peso, cioè con pochi strofini, riesco a sollevare, no? se ho un pezzo di ambre lo strofino, riesco a sollevare un pezzo di carta, vincendo la forza di gravità. tutti i miei processi biochimici, no? io ingugito delle molecole complesse, poi ho un metabolismo che nelle spezzetta, nel frantumare queste macchie molecole, crea dell'energia di origine elettromagnetica, sono processi chimici, chimica, no? cariche, e io riesco a battere la forza della gravitazione, no? pronti? uno, due, tre, ecco, l'ho appena fatto, ho vinto la forza gravitazionale di una terra gigantesca, con un po' di elettrochimica, quindi capiamo, intuiamo, che la forza colombiana sarà più importante, ma quanto? quel numero vorrei che voi lo sapeste, ok? voi venite all'orale e potete rispondermi, qual è la forza più intensa colombiana? d'accordo? quanto più intenso? quindi quando ottenete questo numero, capirete l'assurdità, di includere in questa descrizione, la forza gravitazionale, se questo certamente è un protone o un elettrone, fate questo conto, io voglio sapere quanti ordini di gradenza sono, milione, miliardo, qualcuno non ha un'idea? qualcuno ha mai sentito il numero? alzi la mano e lo spari? il numero maschile? lo chiederò eh? un altro numero, tanto per essere capaci di masticare un po' di numeri, se voi prendete un palloncino di plastica, a parte che la plastica deve essere non conduttiva, certi palloncini per qualche motivo, quando fanno i palloncini colorati, le vernici che usano sono un po' conduttive, quindi, dovete essere certi che il palloncino che prendete, anche se è colorato, si è un isolante, cosa che faccia subito, se lo strofinate su una maglia di lana, e in effetti rimane appiccicato alla maglia, se voi strofinate un palloncino, la quantità di carica che premete, se riesce a mettere su un palloncino, in una giornata secca, con un bel maglione di lana, è di qualche micro coulomb, un micro coulomb, 10 micro coulomb, quindi qual è la forza che c'è tra due palloncini, che hanno 10 micro coulomb ognuno, a una distanza di, non so, facciamo 20 centimetri, fate il calcolo, quanti newton sono? fatelo, fatelo, quanti newton sono? quindi mettete Q uguale a, così bella cifra a tomba, micro coulomb, una distanza di qualche, non so, facciamo 20 centimetri, e calcolate la forza, così avete il numero, quanto potrebbe pesare un palloncino? gonfio di aria, non vuoto, vuoto se lo mettete su un pesetto, cosa potrebbe, qualche grammo, poi ci mettete dentro l'aria, cosa potrebbe pesare, qualche, non so, 10 grammi, mettete una cifra così, dell'ordine di qualche grammo, eh? calcolate dunque, la forza peso, di un palloncino, e confrontatelo, con la forza, che calcolerete, di Qlomb, tra i due palloncini, confrontatelo, per i due palloncini, fate questi conti, che posso vedere, sempre a proposito i conti, rifacciamo un, un vecchio discorso, però, che dovete subito, riconoscere, come lo riciclo questo, la forza peso, la forza peso, direzione X, basso, di un oggetto, di massa m, forza peso, la forza peso, è uniforme, siamo vicini, alla superficie terrestre, non ci accorgiamo, dal raggio di curvatura, a tutti gli effetti pratici, uniforme, pensate subito, a un campo elettrico, uniforme, della piastra, quello che sto per dire, pensate, come lo riciclerò, cosa sappiamo? Sappiamo, che l'energia potenziale, l'energia di posizione, che questo ha, rispetto al punto di posizione, che a priori, dipende da X, Y, Z, in realtà, dipende solo da, la quota, in realtà, U dipende solo da X, e la U di X, è questa, meno, Mg, X, più un eventuale, costante, e il grafico, in funzione di X, è una retta, con tendenza negativa, perché ha, tendenza negativa, perché ho scelto, la direzione positiva, verso il basso, quindi la forza, è proprio un segno più, voglio, scriverlo specialmente, con il segno più, l'origine di questo segno meno qua, è quel più, e l'origine di quel più, è l'aver scelto, questa è la direzione positiva, se sceglievo questa direzione positiva, qua avrei avuto meno, e qua, la mia rete sarebbe stata, il proprio dispositivo, ok? Ci siamo? Vi ricordo, l'ho accennato l'altro giorno, il concetto di gradiente, allora, se voi avete una funzione scalare, ad esempio la U, che a priori dipende da X, Y, Z, per esempio, questo è, che hanno X, Y, Z, S, e qua ho un punto matematico, qual è il valore di U in questo punto? Dipenderà da X e da Y, poi modifico il punto matematico, vado a un punto X più delta X, e vado a un punto Y più delta Y, e mi chiedo, qual è la variazione di U? Ovviamente U avrà un valore diverso qua, ma qua qual è la differenza di U? la variazione di U, la variazione di U è, brutalmente, è UUX più delta X, Y più delta Y, Z più delta Z, meno U calcolato del punto X, Y, Z. Ma qual è una stima lineare di questo? Una stima è che questo è uguale a, il gradiente di U, prodotto scalare, vettore spostamento, che va da questo punto a questo punto là. Ricordate? L'ho fatto anche l'altro giorno, non ripasso, perchè questo qua, specificamente, è la derivata parziale di U, rispetto a X, in questo punto qua, moltiplicato delta X, più la derivata parziale di U, rispetto a Y, in questo punto qua, per delta Y, più la derivata parziale di U, rispetto a Z, in questo punto qua, per delta Z. questo è un teorema di analisi, che dovresti conoscere, l'ho fatto a precorso, ne abbiamo già parlato un paio di volte, ed è da qui che ho introdotto il concetto di vettore gradiente, perchè vi vedo questo come un pronto scalare dell'operatore gradiente per il vettore spostamento, dove il vettore spostamento A è il vettore che va da qua a qua, e che componenti ha questo vettore nella direzione X? del X, che componente ha questo vettore spostamento nella direzione Y? del Y, eccetera. Va bene? Allora qua, come vi ho accennato l'altro giorno, e voglio ridirlo, perchè è molto importante, molto, 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 molto importante. Che voi capiate questo, che capiate cos'è che è vero. Guardate cosa mi dice. Se per caso io mi sposto, se mi sposto, se faccio una variazione del punto, se mi sposto in maniera tale che la funzione du non cambi, evidentemente io sono a 90 gradi rispetto a questo. Lo ridico. In una mappa, l'ho già detto questo, in una mappa, per esempio, se io faccio una mappa di un monte. Questa è una mappa, una cartografica, di un monte. Ok? Questi sono, che so, 100 metri sul livello del mare. Qual è il simbolo? M? SLM. Eh? SLM. 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 100 metri, SLM. Sul livello mare. Grazie. Non lo ricordavo. Questi sono, che so, 200. Questi sono 300. Questi sono 400. 500. E qua c'è 500. E poi c'è la croce in cima. D'accordo? Queste sono chiamate curve di livello. Cioè, sono i luoghi di punti che hanno la stessa quota sul livello del mare. Ok? Quindi immaginate che voi vi spostate su una di queste curve. cioè non state cambiando la vostra quota. Quindi voi vi spostate su una curva di livello, non cambia la quota. Quindi questo serve a 0. Ma quando avete il prodotto scalare tra due vettori e vi da 0, cosa vuol dire? Che i due vettori sono a 90 gradi. Quindi il primo messaggio è che in questo punto qua, se voi vi spostate in questa direzione, lungo la curva, questo vettore è a 90 gradi rispetto al vostro spostamento. Quindi io lo dico così. Il gradiente è un vettore che è perpendicolare alla retta tangente a quelle curve di livello. Cioè in questo punto qual è una retta che è tangente alla curva? Eccola qua. Il gradiente è perpendicolare a quello. Prima cosa. Quindi il gradiente è in questa direzione. è a 90 gradi. E' a 90 gradi. E' quello che la formula mi sta dicendo. Se solo su una curva di livello la funzione non cambia. Quindi evidentemente questo è perpendicolare allo spostamento solo a quello di livello. D'accordo? Qual è lo spostamento massimo? Cioè se io mi sposto, quale direzione devo spostarmi per aumentare, per cambiare in massimo la funzione? Questo è un prodotto scavare, non vi pare. Quindi se volete è il modulo del gradiente. Per il modulo dello spostamento. Per il coseno dell'angolo tra lo spostamento e la direzione di questo vettore gradiente. Sto cercando di farvi capire chi è quel vettore. Allora potete capire appunto di nuovo se l'angolo tra lo mio spostamento e la direzione del gradiente è a 90 gradi, non cambia la funzione. Se l'angolo non è a 90 gradi. Per esempio, io faccio sempre lo stesso passo. Vedete un certo spostamento, magari di un metro. Mi sposto di un metro. Mi sposto di un metro di qua. Mi sposto sempre di un metro ma in diverse direzioni. C'è una direzione nella quale quando mi sposto la funzione U cambia di più. E qual è? In realtà ci sono due direzioni. Una cambia sale e l'altra scende. Perché è chiaro che se l'angolo tra lo spostamento e questo vettore è minore di 90 gradi. Allora il protoscale è positivo. Vuol dire che questo è positivo. Quindi la funzione è cresciuta. Se invece l'angolo è maggiore di 90 gradi avrò un segno negativo che vuol dire che la funzione decresce. Quindi già questo mi dice un'altra cosa. Che c'è una direzione nella quale se io faccio un passo in quella direzione la funzione sale. E c'è una direzione nella quale sale di più. Se vado a direzioni diverse salerà, ma almeno. perché c'è la dipendenza del coseno. D'accordo? Quindi a 0 gradi rispetto al gradiente, se io mi sposto proprio nella direzione del gradiente e quindi ho 0 gradi, avrò il massimo cambiamento. Se mi sposto a 180 gradi, a pi greco rispetto alla direzione del gradiente, la funzione cambia tanto ma diminuisce. Qualsiasi altra direzione la funzione sale o decresce ma di meno. Quindi riassumo tutto dicendo che il gradiente è nella direzione, punta nella direzione dove quando voi fate uno spostamento in quella direzione la funzione cambia di più, a salire. Questa è la definizione del cos'è il gradiente. Quindi quale dei due versi secondo voi qua dovrei mettere il gradiente? Il gradiente è perpendicolare alla retta tangente al quale il livello. D'accordo? Ha la proprietà che se vi spostate nella direzione del gradiente la funzione sale e sale il più possibile. Quindi qual è il verso? La freccia è qui o qui? Guardate i numeri. La freccia è di qua. Il gradiente sale. E se voi camminate nella direzione del gradiente la variazione della funzione sarà massima. Se camminate nella direzione obliqua rispetto alla direzione del gradiente, per esempio camminate in questa direzione, la funzione salirà ma salirà meno. Se spostatevi in questa direzione la funzione non cambia affatto. Se vi spostate in questa direzione la funzione cambierà molto ma scendere. D'accordo? Se vi spostate in questa direzione la funzione scende ma scende meno di quello che avrebbe fatto se camminavate nella direzione opposta alla direzione del gradiente. Quindi il gradiente è un vettore che ha, come tutti i vettori, ha un modulo e una direzione. Sto parlando per il momento della direzione. La direzione del gradiente in un certo punto di una pianta topografica, della pianta di una montagna, il gradiente in un punto punta nella direzione di massima pendenza, la direzione in cui la quota sul mare sale di più. Ok? Quindi voi dovete andare perpendicularmente alla curva del livello e guardare i numeri salire. D'accordo? E' una cosa importante. Il gradiente è un concetto locale. Non guarda la cima della montagna che è qua. E' come se voi foste nella nebbia più totale. Voi non vedete la cima. Voi vedete mai la pena i vostri piedi. E voi fate degli spostamenti. Se fate uno spostamento e la vostra quota non cambia, state camminando su una curva di livello. Se vi girate a 90 gradi e fate un passo, salite quella è la direzione del gradiente di quel punto. Ma magari la cima della montagna è là. E' un concetto locale. Vedete solo i vostri piedi. Non vedete la cima che è altrove. D'accordo? Quindi qual'è la direzione del gradiente qua? E' così. Qual'è la direzione del gradiente qua? E' così. Qual'è la direzione del gradiente qua? E' così. D'accordo? Adesso qual'è il modulo del gradiente? Il modulo del gradiente cos'è questo? Il modulo del gradiente cos'è? Il modulo del gradiente è la derivata a questa V al quadrato più questa A al quadrato più questa A al quadrato radice quadrata. Questo è il modulo del gradiente di U intendo dire. Allora, guardando i disegni Dov'è massimo il valore assoluto del gradiente? Il modulo del gradiente? Il modulo del gradiente è massimo quando le linee di livello sono vicine. Perché? Perché guardate qua, se per esempio questi sono 100 e questo 200, per andare da una quota di 100 a salire da una quota di 200 io devo spostarmi di tanto. Quindi se io facessi una sezione di qua avrei un triangolo che è così, devo spostarmi di tanto per salire di 100 metri. Invece guardate qua, se queste sono curve di livello di 100 in 100, nell'ipotesi che siano di 100 in 100, quindi questo qua è 500. Io qua, in uno spostamento molto più piccolo, faccio un dislivello di 100. Quindi se questo è 100, quale di questi due triangoli questo angolo è maggiore? Questo qui! Questo triangolo ha una pendenza maggiore di questa. Quindi il gradiente qui è più importante di qua. Perché in uno spazio più breve ho un cambiamento più vistoso della funzione. Cioè la parità di variazione della funzione la tengo da uno spostamento più corto. Quindi quando le curve di livello sono vicine, qua è molto ripido. L'escursionista che vuole fare esercizi cardiotonici, quale fa? Quello che vuole dimostrare di essere un bravo arrampicatore di montagna, l'atleta, lui farà questo perché è più ripido. Invece il vecchietto che vuole pure arrivare in cima, ma vuole arrivarsi senza avere, perché non ha più i muscoli per arrampicarsi eccetera, farà lo stesso dislivello, impiegherà più tempo, ma istante per istante il suo corpo fa meno fatica. Magari l'integrale è la stessa, ma la potenza, l'energia che sviluppa per unità di tempo è molto più pronunciata. Quindi questo è un percorso dove hai lo stesso dislivello, ma su un percorso molto lungo e la pendenza media è blanda. Qua invece il percorso è molto corto in orizzontale e sali d'alto quindi la pendenza è molto pronunciata. Quindi il morale è, l'ho già detto altre volte, ma forse guardando un po' i filmati non ero soddisfatto come lo dicevo. Poi bisogna vedere se guardando i filmati oggi sarò di nuovo soddisfatto, ma non posso più permettermi di ripetermi per la terza volta. Il gradiente cos'è? È un vettore. Due cose, direzione, modulo. Il modulo essenzialmente esprime la pendenza. La direzione è la direzione della pendenza massima. A salire! Torniamo qua. In questo punto voglio che mi disegnate una freccina, nell'asse x si intende, che rappresenta il gradiente. Allora voi disegnerete una freccia in questa direzione. Perché in questa direzione? Perché il gradiente è a salire. Qual è il modo di questa freccia? È la pendenza della funzione. Ma siccome la funzione è una retta, è chiaro che il gradiente in questo punto è la stessa freccia. In questo punto è la stessa freccia. Il gradiente è uguale dappertutto. Perché? Perché la funzione è una retta. Ma qual è la forza? La forza è uguale a meno la derivata di u rispetto a x. Cioè la forza per un campo conservativo è f uguale a meno il gradiente di u. Questa operatore differenziale è una bestia. Però concettualmente è una cosa semplice, è una generalizzazione del concetto di dipendenza. Ma in questo esercizio dove in realtà la funzione u dipende da una sola variabile, il gradiente si riduce alla derivante rispetto a x. Quindi questo che è il legame generale, in questo esercizio dove la u dipende solo da x diventa questa. Quindi se io vi chiedo di disegnare degli stessi punti dove vi ho chiesto di disegnare il gradiente delle freccine che rappresentano la forza, voi cosa fate? fate delle frecce che hanno lo stesso modulo ma puntano di qua perché la forza è meno il gradiente e infatti la forza peso è a scendere. Quindi questo è verso il basso perché la direzione è positiva di x lo ha messo verso il basso. D'accordo? Cose che abbiamo già detto ma è importante averne fatto questo di basso. Allora, andiamo avanti, mettiamo della carne su fuoco. Guardate, la u dipende solo da x, quindi io adesso traccerò sulla lavagna dei punti che hanno lo stesso valore di u. I punti che hanno lo stesso valore di u sono quelli che hanno la stessa x. Quindi ecco un luogo di punti che hanno lo stesso valore di x. Ma dovete pensare questo come un piano perché anche questo qua che ha z diverso da 0, supponiamo che la lavagna è z uguale a 0, questo punto ha lo stesso valore di x. Quindi la u non dipende da y, non dipende da z, dipende da x. Quindi tutti i punti che hanno lo stesso x hanno lo stesso u. Quindi adesso io vi chiedo quanto vale u? Allora facciamo un numero, per esempio mettiamo m uguale a 1 kg. G, tanto per fare cifra tonda, facciamo sia 10 m al secondo. Adesso io disegnerò un altro piano con una x diversa. e voglio che la differenza di x sia di 1 m. Quindi io farò un altro piano ecco qua. Questi sono dei piani matematici tutti distanti 1 m. Ok? Perchè l'asse x, le lunghezze si misurano in metri. E io sto scegliendo piani che sono distanti uno dall'altro di 1 m. La funzione è a scendere. Quindi eccola qua, lo disegno perchè stupidamente l'ho cancellato. Quindi in ogni valore di x c'è un certo valore di u. E questi sono espressi nel sistema internazionale in joule. Questi sono i metri. Quindi più io scendo, più di joule cambiano. Qual è la differenza di joule tra questi piani? Domanda da 15. Qual è la differenza di joule tra un punto che sta su questo piano e un punto che sta su questo piano? Prendete la formula. Qua è delta x uguale a 1 m. Cosa sarà? Mg delta x. G è circa 10. M vale 1, x vale 1. Quindi la differenza di joule è di 10 joule. Tra questo piano e questo piano sono 10 joule. Ma chi ha il numero di joule più alto? Quello che sta più su. Quindi mettiamo dei valori. Intanto ho c. Mettiamo che questo è uguale a 100 joule. Tutti i punti su questo piano io assegno 100 joule. Tutti i punti sul piano sotto assegno 90 joule. Tutti questi sono a 80 joule. Tutti questi a 70, 60, 50. E potete immaginare. D'accordo? Adesso la domanda. Prendo questo corpo di una massa di 1 kg e lo lancio. Sapete tutti, e potrei chiedere, mi convinca, sapete che la traiettoria sarà una parabola. Quindi lui fa una parabola che è così, più o meno. Considerate questo punto qua, chiamiamolo punto A, e questo punto B. Ok? E io vi chiedo qual è la differenza di energia cinetica tra il punto B e il punto A durante il volo. Quindi KB meno KA. Voi cosa fate? KB meno KA è uguale a UA meno UB. Guarda la figura e il conto lo fa in un nanosecondo. Quanto è? Cos'era UA? 70 joule. Cos'è UB? 90 joule. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Signorina? No? Meno 20. Meno 20. Non devo dire. Meno 20. In questo caso... Era difficile? Cosa deducete dal fatto che l'energia cinetica nel punto B è inferiore all'energia cinetica nel punto A? Che lo speed nel punto B è più basso nello speed nel punto A. D'accordo? Se io vi chiedo qual è la differenza di energia cinetica tra questo A e questo punto C, quant'è? Zero! Cioè lo speed che ha qua è uguale allo speed che ha qui. Perché? Perché il punto da cui parte ha la stessa energia potenziale del punto in cui arriva. Se io ve lo chiedevo qui, magari il punto D, ecco che l'energia cinetica qua è 50, questo è del punto D. Quindi avrei Ua meno Ud. Ua è 70, l'a è 50, avrei più 20. Quindi l'energia cinetica del punto D è più grande dell'energia cinetica del punto A. Quindi lo speed è più grande. D'accordo? Molto semplice, no? Adesso ricicliamo tutto questo nel contesto delle piastre. Prima di farlo ho un po' di punti fermi. Questa è una carica Q. Questo è una carica Q. Questo è un punto matematico. Carica puntiforme. Punto matematico. Sappiamo qual è il campo elettrico qui. Certo, il campo elettrico in questo punto è questo. Dove U di R chi è? E questo versore qui. D'accordo? Com'è il campo elettrico se io aggiungessi altre cariche? Magari ho una carica, questo è Q1, questo è Q2, questo è Q3, Qual è il campo elettrico in questo punto? E' il risultante dei campi elettrici creati da questa carica e da questa carica. Questa la chiamo UR3 che è il versore che va da questa carica a questo punto. Questo lo chiamo UR1, questo lo chiamo UR2. Quindi il campo elettrico in questo punto, nel punto P, dove non c'è ancora niente, è uguale alla somma dei campi elettrici. Sta tutto in arrivo. Allora scrivo qualcosa del genere, la notazione è evidente. Qual è il potenziale elettrostatico? Ve lo do, pensateci. Il potenziale elettrostatico qui è la somma dei potenziali elettrostatici creati da questa, da quella e da quella. Quale dei due è più facile fare? Direi la seconda, perché la seconda è una somma di numeri, invece quella prima è una somma di vettori. Uno dei vantaggi di usare il potenziale è che è semplicemente una somma banale, e qua invece dovrete sommare le frecce e fare il metodo di panorogrammo, eccetera eccetera eccetera. E qual è il risultato? Qual è il potenziale per una singola carica? Il potenziale per una singola carica, se questa è la carica Q e questo è un punto matematico, il potenziale dovreste saperlo, se non altro che il riciclo di quello che abbiamo fatto con la gravizzazione. Abbiamo fatto queste cose un sacco di volte. Questa è la funzione scalare che quando ci fate i gradienti e i metodi di segno vi da il campo di Coulomb. Il campo di Coulomb risultato è la somma dei campi di Coulomb delle singole particelle, quindi il potenziale elettrostatico è la somma dei potenziali elettrostatici delle carte cariche sorgenti presi a 1 a 1. E quindi... Questa è la distanza al quadrato, una cosa è la forza e una cosa è il potenziale. D'accordo? Adesso se io metto qua una carica... Ha suonato questa cellulare? Se adesso piazzo una carica qua... Questa è una carichetta Q più Q... Lui sente una forza. E qual è la forza che lui sente? La forza che lui sente... Cioè la carica messa nel punto... Questa è la forza della carica Q messa in P... E' uguale a Q per E nel punto dove la piazzate. Questo è il campo creato dalle sorgenti. Questa è la forza che la somma sentirebbe se la mettete lì. Ed è ovvio che questo è uguale a questa roba Q davanti, no? Quindi potreste fare così... Portando la Q sotto la sommatoria vedete che la sommatoria è proprio la somma delle forze di Coulomb. Ok? Qual è l'energia di posizione? Lui, lì... Se questo è positivo, se tutto è positivo, c'è una voglia di scappare via, c'è una forza che lo respinge. Quindi per il fatto di essere lì, lui ha una voglia di muoversi. Ha una energia di posizione. E qual è l'energia di posizione? L'energia di posizione... Cioè scritta spistamente così la riconoscete. Questa è l'energia potenziale rispetto ad una carica, tante cariche dovete sommare le energie potenziali che nascono da questa In relazione da questa e questa D'accordo? Quindi questa è la formula molto carina Se conoscete il potenziale elettrostatico in un punto, qual è l'energia di posizione che una sonda avrebbe messa lì, è il prodotto del potenziale elettrostatico per la carica della sonda che è piazzata in quel punto dello spazio. Ok? Questa è la premessa. Facciamo la pausa qua. Grazie a tutti. Questa è la premessa. Grazie a tutti